Raggiungere se stesso Quando raggiungerò l'ultima incarnazione umana? Quando avrai tanto compreso da non distinguere più la goccia in cui ti senti ancora come uomo dall'oceano a cui appartiene la tua essenza? Nella perfezione della legge, ognuno ha il suo tempo per raggiungere se stesso, ma l'oceano, che è l'eterno presente, ti attende ineluttabile.